Ciao e benvenuti a questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi del servizio di TED che è rivolto principalmente a studenti e insegnanti. Basta andare sul sito ed.ted.com e trovare tantissimi video. Allora vi registrate, selezionate se siete studenti, altro o insegnanti e poi potete creare le vostre lezioni. Io per adesso mi sono settato come insegnante e sto creando la mia prima lezione. Quindi questo video è rivolto agli insegnanti. Allora, Create Lesson è molto semplice perché TED, tutti sappiamo che ha un database enorme di materiale di qualsiasi nozione, materia e informazioni. Adesso noi stiamo cercando un video sul database enorme di TED e vediamo cosa troviamo. Io ho fatto una lezione, qui sarebbe questa di qui, mitosi 1. Adesso io prendo un'altra lezione. Vedete che qui ci sono quante persone l'hanno visionato, quando è stato creato pure. Non si vede tanto bene perché è zoomato poco. Allora adesso selezioniamo un altro, quello creato da un'altra persona. Per utilizzare il video basta cliccare sul video stesso, si aprirà la pagina e basta cliccare su continue. Quindi continuiamo. Una volta fatto ciò, dobbiamo prima di tutto, per forza, inserire una descrizione perché altrimenti nessuno, nel senso il video non verrà modificato. Allora io gli metto mitosi schema 2. Però ci sono tantissimi altri argomenti. Io ho utilizzato tanto la mitosi però ce ne sono tantissime altre. Quindi ho messo la mia descrizione, potevo mettere pure un link, una descrizione maggiore e qui praticamente ti dà la possibilità di guardare soltanto i video oppure di inserire una question. Quindi basta cliccare su think e io come prima metto uno. Allora posso scegliere tra una scelta multipla oppure una scelta aperta. Io scelgo open e mettiamo cos'è la mitosi insomma. punto di domanda. Andiamo salviamo. Perfetto, abbiamo finito la nostra domanda. Possiamo rimuoverla oppure crearne di altre. Questo diciamo è un test quindi lascerei soltanto uno. Poi possiamo vedere il video e possiamo inserire i questionarii e possiamo pure inserire delle informazioni, una discussione e poi alla fine altre informazioni. Insomma quindi praticamente si può creare un micro ambiente che permette all'insegnante di condividere materiali con i propri studenti. ed è una cosa secondo me già ottima. Più che altro è gratuito. Qui c'è la possibilità di vedere la preview oppure di pubblicare. Noi pubblichiamo perché comunque ci interessa vedere il nostro risultato. Come potete vedere ci permette anche di condividerlo su maggiori social. Quindi Twitter, Facebook, Pinterest e G+. Con precisione mancherebbe anche Reddit. Vabbè comunque clicchiamo su quello che abbiamo creato. Quindi lui ti dice che è stato creato insomma creato da me e tante informazioni inerenti a tutto ciò. Quindi ti dà anche le informazioni che è creato il video. Insomma vi vedete insomma tutto il video che è stato creato da una persona quindi insomma da un'insegnante. Vedete che tutti i diritti. Perfetto finisce il video e compare la mia domanda perché ho detto che deve comparire la mia domanda. Quindi potete creare veramente un ambiente interessante. Ovvio che la descrizione è piccola però si può aumentare, si possono inserire altre cose informative. Quindi è un micro ambiente gratuito dove basta registrarsi, utilizzarlo e condividerlo con i propri studenti o comunque con chiunque altro. Utile sia per l'insegnante ma anche alle persone che vogliono creare dei video, utilizzare insomma il database di TED e creare qualcosa di nuovo interessante. Con questo è tutto. Ci sentiamo al prossimo video.